Allora, sto decidendo. Ogni volta qui mi mettono in crisi, Offida si manda benissimo. Allora, lei che mi consiglia? Facciamo il maccheroncino, vai. Io, Offida e Rosso Offida, 70 volte Pulciano, 30 Cabernet Sauvignon, questo fa 3 anni di Baric, 6 mesi di raffinamento in bottiglia, adesso abbiamo l'annata 2016. Quindi che ci vuole dire? Lo possiamo prendere. Fantastico, io direi fantastico. Questo è il carciofo, questi impiancchettanti, che noi prendiamo sempre perché devono essere del luogo. Sì, assolutamente. Sto sistemando il sacchettino del cabello. Sto facendo, stai sistemando. Io sono abituato a questa matriciana, mentre qui andiamo a casa nostra, andiamo a Campofilone, all'Angelo Si, Campofilone è anche nel cuore, diciamo. Dopo che abbiamo provato quei maccheroncini, proprio originali di Campofilone, eccoci qua. Assolutamente. Ora, Adofida. Ma adesso cosa starà combinando la gelose con questo? Io farò una cosa che non si potrebbe fare, che solitamente non si fa, non lo faccio, però... Non lo fate voi a casa, eh? Non lo fate, che è pericoloso. Oggi no, lo faccio, è un po' a livello anche teatrale, un po' alla base Spencer, io faccio così, perché sennò mi sporco la camicia, non ho il cambio. Bravo, a casa non lo fate, eh? Non lo fate, lo facciamo adesso interno, perché siamo qui noi da soli. Non lo fate, non lo fate. Questo cos'è? Questo è il tortino al cioccolato? Grazie mille. Allora, è finita anche quest'oggi la puntata di Risto Ficina. Questo bellissimo suore che ci accompagna fino alla fine. Eh sì, ci accompagniamo fino alla fine e noi diamo appuntamento alla prossima. Assolutamente. Di altri bellissimi ristoranti. Mille ristoranti. D'Italia. Tutti. Anche all'estero. Ciao.